Amici di Mirado di Rado bentornati, questo video è in collaborazione con Boti Brush che mi ha inviato un pennello che vado subito a mostrarvi. Il pennello è questo qui, faccio un focus, il manico è in resina con questa fantasia che ho scelto personalmente sui toni del blu, del celeste e del bianco sono colori che a me piacciono particolarmente. Il ciuffo è un tasso Silver Tip Super HD sbiancato, la caratteristica di questo pennello è questa, la possibilità di svitare il nodo e sostituirlo con un altro, in questo caso io ho un nodo sintetico, vedete? E il pennello diventa diverso, un altro pennello. Quindi avete la possibilità di intercambiare manici e nodi a vostro piacimento. Vi lascio il link in descrizione dello store di Boti, Boti Brush e con il codice sconto Mirado di Rado 10, trovate tutte le istruzioni nella descrizione e nel primo commento in alto, avete un ulteriore 10% di sconto, perché dico ulteriore, perché lo store di Boti Brush ha già dei prezzi in promozione, ha già degli sconti applicati. Io faccio fare un piccolo tuffo al pennello in acqua calda e il setup di oggi è lo stesso del reel o dello short, dipende da dove mi state guardando, che avete visto mercoledì. Quindi utilizzerò Eucris, GeoF Tramper, che vado a togliere dalla sua scatola naturalmente, ma rasoio è la metta. Mi ho l'R41 con Shark, lo squalo nello squalo. Qualcuno sul gruppo Telegram di Mirado di Rado, a cui vi invito ad iscrivervi, ha scritto lo squalo più lo squalo uguale megalodonte. Eh sì, quindi oggi mi andrò a radere con il megalodonte. Questa Shark Super Styless. Ottime la mette, veramente ottime. Ok. Quanto l'ho stretto il barattolo. Ho una forza sovrumana. L'eleganza di questa crema è qualcosa di meraviglioso. Io non ringrazierò mai abbastanza Marco Pisapia per avermela regalata. Ecco qui la quantità che andrò a posare nella mia ciotola. Voi ormai sapete che utilizzo la ciotola esclusivamente per inglobare il prodotto all'interno del nodo. Non mi interessa fare il montaggio. Eccoci qui. Questo nodo, il nodo in tasso, tasso Silver Tip Super HD, questa versione qui è sbiancata, vi arriva e il nodo è abbastanza stretto. Ma già dopo il primo utilizzo, io per renderlo attivo, ho messo il pennello nel bicchiere con dell'acqua, acqua fredda, per un paio d'ore. Era già pronto all'uso. Quindi solo magari un rapido risciacquo. Dopodiché era già pronto all'uso. Ok. Il resto della crema che rimane Vado a mettere il viso. Ok. 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 Grazie a tutti. Il nodo è da 26 mm, la base del nodo è un'ottima misura secondo me, 26 mm per questo genere di pennello è una buona misura. Guardate come gestisce Eucris di Geoff Trumper. Vedete? Non vado molto a premere, anche se comunque il pennello si è aperto, però non vado molto a premere perché... Ha delle punte molto performanti, voglio godermi proprio le punte del pennello. Ancora un po' d'acqua. Grazie. 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 quindi Mühle R41 con dentro una Shark Stylus vamos la barba è sempre di tre giorni e mezzo la barba è sempre di più 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 ok è sempre di più 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 bene la razzatura si è conclusa nella migliore delle maniere senza neanche un punto rosso perché la scorrevolezza perché la scorrevolezza era molto alta l'idratazione del prodotto è sempre di più la barba è sempre di più la barba è sempre di più la barba è sempre di più se è solitane la barba è sempre di più la barba è sempre di più la barba è sempre di più ok questa qui con il nodo che si avvita e si svita se invece avete la soluzione incollata comprate un altro pennello se volete potete scegliere quindi o la soluzione a vite o la soluzione incollata nessun problema è simpatica questa idea perché appunto permette di avere lo stesso manico con cui magari ci troviamo bene che si confa la nostra conformazione della mano o comunque al nostro gesto e perché no soprattutto al nostro gusto e poi cambiare ciuffi nodi e avere sempre pennelli diversi vi ricordo che c'è il link in descrizione col codice sconto mirado dirado 10 avrete un ulteriore 10 per cento di sconto sul sul prezzo già scontato se state guardando questo questo video dalla vostra smart tv in questo momento vedete un codice qr scansionando il codice qr col vostro smartphone verrete indirizzati al sito di body brush e vi ricordo ancora codice sconto mirado dirado 10 per un ulteriore 10 per cento concludo la rasatura con pontaccio 21 un balsamo dopo barba eccezionale che ho scoperto a casa del mio amico riccardo che ho trovato su ebay qualche tempo fa è un balsamo dopo barba alcolico molto profumato ed elegante che sposa perfettamente con eucris da anche la botta alcolica e io lo uso pieno viso ok ok io come sempre ho lasciato che fossero i miei gesti a raccontarvi la rasatura di oggi io vi saluto vi ringrazio veramente tanto per aver seguito anche questa che questa premiere per essere stati insieme in chat l'appuntamento è in settimana con un nuovo short qui su youtube se mi seguite anche su tik tok o su instagram troverete chiaramente lo stesso contenuto quindi al mercoledì cioè la sintesi della rasatura che poi vedrete sabato questo è un po la strategia quindi chi mi segue ha già un'anticipazione e poi sabato troverà una descrizione più dettagliata o comunque se non c'è una descrizione ci sono i miei gesti che parlano al posto delle parole benissimo a me non piace essere molto didascalico anche se alle volte magari lo sono ma tendenzialmente non mi piace essere molto didascalico in tutte le fasi della rasatura anche perché io non rispetto le canoniche fasi della rasatura avete visto benissimo nei miei passaggi in viso grazie ancora quindi un grande abbraccio a tutti grazie ancora a botty brush per avermi inviato questo pennello io vi rimando a sabato prossimo e come sempre ciao da Manuel e da Mirado di Rato